Va bene, allora grazie a tutti per essere qui. Quello di oggi è un incontro atipico, cioè vogliamo costruire con voi un focus group. Quindi vi chiediamo veramente di darci un vostro contributo rispetto ai ragionamenti che faremo insieme. Chi di voi non è iscritto nelle officine sulla mano? Accidenti, c'è ancora qualcuno che non lo è. Fantastico, www.officineinnovazione.it. Aspetto appena alla fine di questo incontro che vi precipitiate a registrarvi. Vediamo però insieme, proprio dentro la logica di quello che è questo social network un po' strano, come possiamo coprogettare un qualcosa di utile e di interessante per noi. È sempre stata la nostra caratteristica, provare a costruire insieme qualcosa, un qualcosa che ci sia di utilità reale nel nostro lavoro. Allora, partiamo subito con questo viaggio. Prima di tutto facciamo il quadro di contesto, cioè cerchiamo di capire insieme in che ambito ci stiamo muovendo. Domanda, che cos'è una business community? Buone relazioni per lavorare insieme. Altre idee? Quest'uomo qua ne sa qualcosa. Che cos'è una business community? Una comunità di persone. Lo sentite? No, in piedi. Dai, in piedi. C'è un microfono, ti è andato bene. Una comunità di persone che condividono e aspirano a uno stesso obiettivo di business. Porca miseria, interessante. Qualche altra definizione? Ce n'è una là. Per me è una piazza, una piazza di risposta. Per me è una cosa che non è rinforzata. Può essere anche bene. Allora, una piazza di risposta? Giustamente, una piazza. Potrebbe essere una piazza. Noi dove siamo in questo momento? Siamo dentro una grande piazza. La più grande piazza d'Italia, una delle più grandi piazze d'Europa. Quindi, la fiera. La fiera può essere una business community. Però, è un po' riduttivo definirla soltanto una piazza. Perché può essere una serie di affari, una serie di incontri, una serie di opportunità che si vengono a creare. Ma non è nemmeno soltanto questo. Un valore. Cioè, un motivo interessante da cui trarre un punto di concretizzazione rispetto a una relazione, a un rapporto. O anche. Quella che mi piace molto come modalità espressiva è questa. Cioè, uomini al lavoro. È un ambito in cui degli uomini stanno giocando tutta la loro creatività, la loro capacità, il loro desiderio, dentro l'azione. Questo è il tema su cui, in questo momento, moltissimi si stanno interrogando. Cioè, come sono queste dimensioni sociali? Perché sono dimensioni sociali. Entrano quasi dentro un livello antropologico dell'uomo. Ma stanno mutando in maniera assolutamente radicale. L'esperienza che noi abbiamo fatto con le officine italiane innovazione è un'esperienza per noi preziosissima. Tre anni di errori. Tre anni di sbagli. Tre anni di fallimenti. Tre anni in cui abbiamo fatto e provato e disfato e rifatto e riprovato. Continuamente, costantemente. Cercando di capire dove vanno questi luoghi. Per cui, sulla nostra pelle, probabilmente siamo quelli che si sono fatti più esperienze in giro sulla faccia di questo paese rispetto a che cosa significa fare una business community oggi, nel ventunesimo secolo. E le esperienze, lo sappiamo bene, si fanno soltanto sbagliando. Perché chi non prova, non può fare esperienza. E questo aspetto è per noi un grandissimo valore. E siamo qui a condividerlo con voi oggi. A cercare di capire come tutto questo può essere ancora più prezioso, più utile, per il nostro modo di lavorare, di essere uomini al lavoro, oggi, nei tempi odierni. Allora partiamo dalle fondamenta. Cioè partiamo da quelle che sono le radici. Perché tutto ciò che accade ha radici ben profonde, ben infilate nel terreno. E se si dimenticano le radici, diventa difficile capire come l'albero può crescere. Allora mi piace proprio pensare che, nella mia esperienza, il mercato, l'economia, sono un fenomeno comunitario. Cioè sono l'accadere di una socialità tra uomini che si esprime dentro questa socialità. E questo fattore è il fattore fondamentale. Certo, la socialità è ben diversa nel ventunesimo secolo. Segue regole differenti. Le condizioni per che questo fenomeno comunitario accada alla fine della fiera, che non si dice mai per chi fa fiere, ma alla fine della fiera sono fondamentalmente legate a questa grande parola che è la parola fiducia. Ovvero, io riesco a fare affari con te perché si è creato un'empatia, si è creato un livello di stima di certezza morale nei tuoi confronti. Tale per cui è ragionevole che io pensi che tu non mi stai fregando. Questo livello di fiducia è l'elemento fondamentale dentro tutti gli aspetti societari. Pensate alla famiglia, tra marito e moglie. Pensate al paesino. Pensate alla nazione. Se viene a mancare questo elemento fondamentale, non si può fare nulla. Non ci può essere un fenomeno comunitario. Non può accadere il mercato. La fiducia, peraltro, si distingue per diversi gradi di appartenenza. Quindi il grande fattore che consente di sviluppare le relazioni è un fattore in cui quanto più io riesco a far crescere gradi di appartenenza a quella comunità, tanto più io riuscirò a poter sviluppare in maniera positiva, con alta capacità di concretizzazione, tutte le occasioni che ciascuno di noi porta con i suoi tentativi. Allora, nel passato come accadeva tutto ciò? Le classi sociali. Io e i miei bimbi che vanno all'elementare e cominciano a studiare come si suddividevano le società nelle grandi culture mesopotamiche, o poi i greci, i romani e così via. Quindi classi sociali, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, gruppi che hanno interessi comuni e quindi livelli di appartenenza comuni. Nel tempo le corporazioni, fin dai tempi degli antichi romani, e poi le corporazioni degli arti e dei mestieri, nell'ambito della cultura medievale. Fino ad arrivare poi alle associazioni d'impresa. Tutti questi fenomeni comunitari, fenomeni sociali, andavano dentro un grande fattore di comune interesse, aspetti lobbistici di protezione, di vincolo, di difesa, oppure le fiere e i mercati, come fattori di sviluppo legati al mercato, alle vendite, alle conoscenze, alle relazioni. Questa è la storia delle business community, in quello che è l'arco dell'inizio della società, fino a pochissimi anni fa. Cioè tutta la dimensione con cui viene facilitata la nostra capacità di fare affari, di vendere, di sviluppare il nostro mercato, poggia su questo livello. Voi tutti che siete qui oggi a matching, ne state facendo esperienza. Cioè state facendo esperienza del fatto che la condizione fondamentale per poter sviluppare la nostra azienda è appoggiata su questo grado di fiducia. Quanto più riesco a sviluppare questo grado di fiducia, tanto più il mio vettore, cioè la macchina su cui sono seduto, può andare in discesa, oppure si può trovare a salire una salita ripida ed erta, con un sentiero tortuoso. Questo è il fattore su cui insieme noi possiamo lavorare. Ed è un fattore che non è indifferente. Quanto pesa, secondo voi, in percentuale, rispetto alla possibilità e alla potenzialità di sviluppo del nostro business, questo fattore? Provate a spararla, secondo voi, per la vostra esperienza. Quanto pesa? 100%. Perché? Perché senza fiducia... Che fregatura! Senza fiducia? Viene meno l'opportunità? Di buttarsi verso qualcosa di ignota. Altri che hanno altre considerazioni. Lui dice 100%. Giuliano, quanto pesa questo fattore? 70-80% perché è... Tanto più della metà, però un pezzettino di qualità di quello che offri ci vuole lo stesso. Quindi ci metti dentro un 40-30-40 di prodotto, di qualità, del servizio, e poi se non c'hai la relazione, non c'hai la fiducia su quella roba lì, non serve a niente avere... però la sostanza ci deve essere, altrimenti facciamo venditore di filosofia e le dura poi. Non lo so... No, è interessante, ma c'è un problema che se non passi con la fiducia non riuscirai neanche a mostrare la qualità. Per quello dico 100%, perché senza quello non riesci a convincere a fare il salto e vedere cosa stai offrendo. Spesso il problema è anche quello. Chi di voi c'era ieri sera all'Assemblea Generale? Hola. Capite il valore di quello che ci siamo detti ieri sera? Cioè senza quel livello lì non è possibile, anche avendo l'azienda più performante, più efficace e più efficiente del mondo, non è possibile che quell'azienda abbia un successo. Guardate il valore che ha questa condizione fondamentale per la potenzialità di tutto un sistema. È come dentro l'ambito della meccanica, è una condizione fondamentale per il rendimento della macchina. Allora vi lascio con questa prima provocazione e partendo da questa facciamo un passo però. Nuovi paradigmi, perché siamo dentro un nuovo mondo, siamo dentro una nuova condizione. E questi nuovi paradigmi cambiano quello che è accaduto per secoli. Per cui se le business community, usiamo questo terminaccio inglese giusto per capirci, cioè se le comunità tra uomini che lavorano stavano in piedi dentro quei due ambiti di importanza, oggi noi abbiamo dei paradigmi radicalmente differenti. Avevamo prima una dimensione locale, cioè l'associazione dei commercianti di Piacenza stava a Piacenza, erano interessi di Piacenza, venivano tutelati in quell'ambito. Oggi noi ci ritroviamo dentro un mercato invece in cui è per tutti interesse comune giocare una partita ampia. Secondo aspetto, eravamo nel mondo fisico, contatto, ti incontro, ti stringo la mano, ci vediamo, ci rincontriamo, stiamo insieme. Oggi noi abbiamo strumenti che integrano e portano verso l'ibrido. Non funziona nulla in questo mondo che sia esclusivamente digitale. Sappiatelo bene, ve lo possiamo raccontare e provare. Cioè esperimenti, tentativi, fallimenti, sbagli, ok? Ma l'integrazione invece, cioè l'ibrido fisico-digitale, è un elemento che consente di avere molta più performance e consente di poter arrivare a chiudere il primo paradigma, cioè dal locale al glocale. Perché l'aspetto locale viene preservato, su questo potremmo parlare per ore, ma allo stesso tempo la dimensione del mio orizzonte diventa il mondo. Terzo nuovo paradigma, prima la modalità di relazione dentro una comunità di business era confusa, oggi invece c'è un fattore determinante nella vita di ciascuno di noi, un fattore che il mio papà non aveva così presente. Che differenza c'è dentro una dimensione precisa della vita tra me e il mio papà? Qual è questa dimensione che è cambiata in maniera radicale? Che mi porta ad andare sulla dimensione dello? E del? Volevo dire tempo. Tempo. Spazio e tempo vanno insieme. Esatto. E cambia radicalmente lo spazio e il tempo. Quindi io ho la necessità di essere molto più profilato, la mia figura è meno confusa, perché ha meno contatto fisico, ma devo avere molta più profilazione, devo essere più preciso, perché altrimenti la mia azione da generica diventa molto inefficace. Quindi oggi dentro una comunità di uomini che stanno lavorando insieme è come avere tutti quanti molto più personalizzati, molto più precisi, perché altrimenti essendo diventati in tantissimi, dentro quello che è la grande comunità del mondo, dove io posso comprare da un fornitore cinese, posso comprare un fantastico prodotto enogastronomico da un fornitore siciliano, ma mi posso rivolgere anche a un galiziano. E tutti questi aspetti richiedono una personalizzazione molto spinta. Altrimenti non riusciamo a chiudere questi link, a connetterci, non riusciamo a sviluppare queste opportunità, che pure sono i nostri talenti, sono il nostro punto di forza. Evidente, chiaro, ma che si esaurisce. Come dicevi tu prima, puoi avere qualsiasi potenzialità, ma se manca questo fattore comunicatore, di base non riesce a sviluppare nulla. Questo perché l'innovazione è realmente un fenomeno comunitario. È sempre un fenomeno comunitario. Vi rubo un istante, vi faccio vedere se funziona, la tecnologia ci supporta, questo video molto breve. Durante gli ultimi cinque anni mi sono posto questa domanda. Da dove vengono le buone idee? È un tipo di problema al quale siamo tutti intrinsecamente interessati. Vogliamo essere più creativi, vogliamo avere idee migliori, vogliamo che la nostra organizzazione sia più innovativa. Ho analizzato questo problema da un punto di vista ambientale. Quali sono gli spazi che storicamente hanno portato eccezionali indici di creatività e innovazione? E ho visto che in tutti questi sistemi ci sono degli schemi che continuano a ricorrere, che sono cruciali per creare ambienti che sono eccezionalmente innovativi. Uno di questi schemi lo chiamo la lenta incubazione. Idee eccezionali non vengono in un momento di grande comprensione con un'ispirazione improvvisa. Le idee più importanti impiegano un grande tempo per evolvere, passando molto tempo dormienti in sottofondo. Di solito ci vogliono due o tre anni, o anche dieci o venti, prima che sia evidente che una certa idea abbia successo, e ti possa essere utile in qualche modo. E questo è dovuto parzialmente al fatto che le buone idee sono causate dalla collisione di piccole intuizioni, che formano qualcosa di più grande del loro insieme. Nella storia dell'innovazione si vedono un sacco di casi in cui qualcuno ha solo la metà di un'idea. C'è una bella storia riguardo l'inventore del web, Tim Berners-Lee. È un progetto a cui Berners lavorò per dieci anni, ma quando cominciò non aveva una visione completa di questo nuovo media che stava inventando. Cominciò a lavorare a un progetto parallelo, che riguardava l'organizzazione dei suoi dati, ma che scartò dopo un paio di anni, dopodiché cominciò a lavorare un'altra cosa. E fu solo dopo dieci anni che cominciò a esserci una visione completa del web. Spesso è così che nascono le idee. Hanno bisogno di un tempo di incubazione e passano molto tempo nella forma di intuizioni incomplete. L'altra cosa importante quando pensi alle idee in questo modo, è che quando queste idee prendono forma come intuizioni, hanno bisogno di collidere con altre intuizioni. E spesso la cosa che trasforma un'idea in una cosa di successo è un'altra intuizione che ronza nella testa di un'altra persona. E bisogna trovare il modo di creare un sistema che permetta a queste intuizioni di unirsi e trasformarsi in qualcosa di più grande della somma delle parti. È per questo, ad esempio, che i caffè all'epoca dell'illuminismo o i saloni letterari del modernismo furono fucine di creatività, perché creavano lo spazio dove le idee potevano fondersi e scambiarsi, creando nuove forme. Guardando il problema dell'innovazione, da questa prospettiva, viene fatta luce su un dibattito tenuto recentemente riguardo a cosa sta facendo Internet alle nostre menti. Ci stiamo facendo sopraffare da uno stile di vita, multitasking e continuamente connesso. Questo ci porterà a pensieri meno complessi man mano che ci spostiamo da una lettura più lenta, profonda e contemplativa? Ovviamente sono appassionato di lettura, ma penso sia importante ricordare che il grande motore dell'innovazione scientifica e di quella tecnologica è stato lo storico incremento della connettività, cioè la nostra abilità di raggiungere e scambiare idee con altre persone, di prendere in prestito intuizioni di altre persone e combinarle con le nostre, trasformandoli in qualcosa di nuovo. Penso che sia realmente questo, più di ogni altra cosa, il principale motore della creatività e dell'innovazione negli ultimi 6-700 anni. E quindi sì, sicuramente veniamo più distratti, ma quello che succede di così meraviglioso e miracoloso negli ultimi 15 anni è che abbiamo così tanti nuovi modi di connetterci, così tanti nuovi modi di raggiungere e incontrare altre persone in modo da trovare i pezzi mancanti per completare le idee a cui stiamo lavorando, o incontrare per caso una nuova informazione che possiamo usare per costruire e migliorare le nostre idee. Questa è la vera lezione dalla quale vengono fuori le buone idee. L'opportunità favorisce la mente connessa. Non so se c'è anche questa mano, sto ragazzo. Allora, mi piaceva molto questo filmato perché riepiloga esattamente quello che abbiamo cercato di fare. Ci abbiamo creato questo luogo strano dentro cui siete tutti accolti e siete tutti invitati. Chi ancora non vi ha messo piede, non ha messo la sua faccia, non si è messo in evidenza, mettendosi lì in modo personalizzato per quello che è e per quello che porta. Ma questo è il mondo che abbiamo cercato di facilitare. Siamo un po' dei visionari noi di Nonet e delle officine. Siamo dei consulenti un po' strani, un po' strampalati. Ci mettiamo le mani, proviamo. Partiamo da delle ipotesi e proviamo a sperimentarle. Siamo gente da laboratorio, quindi non ci accontentiamo di ragionare sulle cose, ma vogliamo anche usare le mani. Questo perché siamo italiani e di conseguenza, perdonateci, ma abbiamo questi cattivi vizi. Allora, questo che cosa ci dice? Ci dice che il presente è ben diverso dal passato. Ci dice che sono entrati dei fattori che ci hanno consentito di mutare le condizioni della nostra azione. Il presente quindi è molto ramificato. Le radici, che prima erano semplici, avevamo componenti lobbistiche, avevamo componenti legati a fiere e mercati, oggi sono molto invece diramate. Abbiamo tutto un mondo in cui abbiamo ancora le associazioni, che possono essere associazioni tradizionali o associazioni molto innovative come la Compagnia delle Opere. Una grandissima rivoluzione rispetto a ciò che era il panorama associativo vent'anni fa. Queste associazioni possono lavorare ancora su aspetti lobbistici oppure su servizi consulenze specifiche, dove lavorando sulle dimensioni di scala e su fabbisogni comuni, si riescono a ottenere anche condizioni low cost. Posizionamento prestigio, che è sempre fondamentale dentro una relazione comunitaria. Pensate anche soltanto alla posizione dello stand nelle grandi fiere internazionali, dove devo mettermi in una posizione interessante. Poi c'è tutto un mondo che è quello fieristico, che di fatti condivide posizionamento prestigio, porta conoscenze, clienti, mercati, relazioni, nuove opportunità, allo stesso modo business opportunity, cioè occasioni di business. Io cerco e io sto offrendo. Possiamo trovare relazioni insieme, dirette, mirate. E poi si è aperto un nuovo canale. È solo un canale, ma integra. Porta tutta una serie di nuove relazioni. Tutto il mondo web. Partenza con i portali e dentro i portali trovate le testate di settore, le testate giornalistiche, che hanno sviluppato lì occasioni e opportunità per andare a creare e attirare professionisti, categorie merceologiche, che quindi seguono quegli ambiti e che lì trovano momenti di incontro e di paragone. C'è tutto un ambito legato ai software professionali, per cui se tutti stanno utilizzando i miei programmi, e io sono Mac, vuol dire che io ho una capacità di relazione con una miriade di interlocutori che stanno utilizzando e stanno pensando come io li sto facendo pensare, perché io propongo loro un metodo di lavoro che diventa parte integrante del loro metodo di concepire, pensare, agire. Noi, spessissimo, siamo la modalità con cui elaboriamo, pensiamo e agiamo. Quindi una capacità di relazione strettissima. Poi c'è tutto il mondo dell'e-commerce. E poi, da lì, da tutta questa miriade di informazioni che mi arrivano addosso, io devo trattenere e trasformare. Quindi portarlo a un livello di conoscenza pratica, applicativa. Accadono i social network, quindi ultima fase di questa generazione di integrazione di queste capacità di competenze, informazioni in essi, relazioni, e lì dentro nascono reti di relazioni e nascono ancora una volta business opportunity. Tutti questi elementi hanno un unico grande fattore che li accomuna, ed è il fattore tempo. Non è più solo il fattore spazio, come avevamo fino al secolo scorso, per cui l'associazione dei commercianti di Frosinone, l'associazione degli industriali di Napoli. Non c'è più solo il fattore spazio, ma c'è anche il fattore tempo. Il fattore tempo è un consumo. Cioè vuol dire che io, per poter vivere dentro queste relazioni, che diventano, come dicevamo prima, il fattore moltiplicatore, che mi consente di poter portare la bontà della mia idea, del mio prodotto, ovunque, sono costretto a utilizzare un combustibile che si chiama tempo. E questo è diventata la risorsa la risorsa più preziosa. Quindi siamo belli fritti. Perché, come dire, noi stessi siamo consapevoli del fatto che se non abbiamo questo elemento, questo substrato, tutto quello che di buono facciamo non serve. Non serve. Tutte la nostra fatica, i nostri sforzi, il nostro impegno, la nostra genialità, non servono. Perché ci vuole questo livello. Ma questo livello consuma tempo. E quindi, ancora una volta, siamo sempre nella stessa condizione. Dobbiamo trovare un compromesso. La vita è un grande, bellissimo compromesso. Ma non possiamo dimenticarci di questo pezzo. Perché presi dall'assillo della crisi, presi dall'assillo del non ci stiamo dentro, bisogna pagare gli stipendi, stiamo andando male, siamo in una condizione in cui perdiamo sempre di più. Se molliamo questo livello, l'esito è eclatante ed evidente, è che la situazione è soltanto destinata a precipitare. Allora, questo è il fattore di quella che è una business community. Radicalmente diversa. Perché tutto quel nuovo filone di web, tutto quel nuovo filone di possibilità, di capacità, di relazione nel tempo, ovunque, ha spiazzato le regole. Quindi, rispetto a come faceva il mio papà, adesso le regole del gioco sono diverse. E quindi, il nostro tentativo, cioè andiamo molto sul concreto adesso ragazzi, questo è stato il nostro tentativo e abbiamo cercato di creare qualche cosa di unico. Franco Mercalli, grande mente tecnica, che sta alle spalle di questo tentativo. Ti passo la palla, perché voglio sentire anche la tua voce. Grazie, solo due numeri, vi do solamente per riassumere quello che lì è indicato in questo paragrafo. La comunità, come si vede nella slide, è formata da 12.000 tra imprenditori e professionisti che hanno aderito da 180 paesi nel mondo. Come diceva Pietro, abbiamo fatto un po' fatica a capire quali erano le modalità giuste, non siamo sicuramente ancora arrivati adesso a trovare le migliori, però, diciamo, lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni qualcosa comunque ha condotto e vi do due brevi numeri. particolarmente parlando della piazza d'incontro che si chiama Annunci Cercofro che adesso sta in prima pagina. In un anno di operazioni sono stati pubblicati da imprenditori professionisti circa 3.000 annunci e a fronte di questi 3.000 annunci sono state generate 8.000 risposte. Quindi, utilizzando il linguaggio del video che ci ha fatto vedere prima, Pietro, ha più di 500 collisioni di idee tra un imprenditore e un altro imprenditore e un professionista e un altro professionista che sono nel tentativo di vendere i propri prodotti o servizi oppure ricercare prodotti e servizi ma non solo questo sono state cercate e offerte anche partnership progetti di investimento e anche semplici scambi di informazioni per dare qualche numero diciamo così di dove comunque lo sforzo ha portato e dove siamo oggi. Insomma, questi sono i numeri. abbiamo messo in pista un oggetto che serve proprio a connettere a collegare i nostri business le nostre imprese abbiamo fatto questa grande infrastruttura interessante interessante perché abbiamo imparato tanto osservandola guardandola e proprio perché abbiamo imparato tanto adesso vorrei chiedervi una grande cortesia Monica e i ragazzi di KPN vi distribuiscono dei moduli questi moduli sono quelli inerenti a questo focus group cioè adesso vi raccontiamo l'idea che abbiamo in mente e voi vi chiederei questa grande cortesia di esprimere il vostro parere in maniera tale che ci dite oh ragazzi lasciate perdere non perdete altro tempo su questa questione oppure ci dite beh potrebbe essere interessante per ringraziarvi per ringraziarvi del tempo che vi facciamo consumare alla fine se ci restituite questo questionario vi regaleremo una splendida gadget che è la borsettina tricolore delle officine italiane innovazione e soprattutto vi invitiamo poi insieme con l'amico Giuliano a venire allo stand Empoli 50 a bere uno fantastico aperitivo insieme e ad assaggiare degli stupendi salumi di varzi e antipasti di terra così andiamo avanti a fare proprio community perché le community nascono mica soltanto sul web ma hanno bisogno di un rapporto fisico siamo molto per l'ibrido fisico digitale allora io comincio a raccontarvi questa idea e voi pian piano mi dite che cosa ne pensate se è una boiata la buttiamo via subito perché nella vita come dicono gli americani prima si fallisce e meglio è nel senso che non si perde tempo ok noi su questo abbiamo una certa esperienza allora ragazzi il grande punto è che queste officine noi le abbiamo lasciate crescere le abbiamo lasciate crescere facendo in modo che chiunque voleva venire potesse entrare aderire e cominciare a giocarsi la sua partita cominciare a dire bene voglio incontrare un libico voglio incontrare qualcuno che sta in Tunisia in Cina in India ok libero mi ci muovo gli stranieri che cercano qualcosa dell'Italia cercano le nostre aziende i nostri servizi i nostri prodotti soprattutto per quello sono arrivati da 180 paesi del mondo per quello ne sono arrivati la bellezza di quasi 3.000 per cui su 12.000 iscritti noi ci ritroviamo ad avere 3.000 stranieri uno dice cacchio un sito in lingua italiana l'avessimo fatto in inglese no in italiano e sono arrivati le abbiamo fatte crescere le abbiamo lasciate lì perché spesso nella vita occorre anche distaccarsi da quello che vedi perché quando ci sei dentro troppo fai fatica a vederne i contorni ed è difficile riuscire a cogliere quello che sta accadendo le abbiamo lasciate crescere e poi adesso abbiamo pensato di fare questo cioè vista la difficoltà che molti hanno nell'utilizzarle per cui c'è un 5-10% che le usa e le usa bene e poi ci racconta che sta facendo business in Italia o in giro per il mondo ma la nostra idea è bene proviamo invece ad abbinare questo cioè uno staff di professionisti che sia lì ad aiutare e supportare il fatto che l'innovazione e il cambiamento di quest'humus di questa comunità possa crescere rigoglioso e quindi abbiamo pensato di fare le officine premium ovvero abbiamo le officine che sono free tutti possono entrare possono lavorarci possono fare quello che vogliono e così sono e rimangono per chi può sentire la necessità di essere aiutato di essere accompagnato di trovare un supporto come dicevamo prima perché sono una business community e spesso se tu non hai un livello di fiducia se tu non hai un livello di compagnia questa cosa ti incute timore ti fermi ti spaventi cedi di fronte all'opportunità che invece ti è posta che invece tu potresti utilizzare quindi l'idea è proprio stata questa facciamoci compagnia cioè proviamo a mettere insieme questa dimensione perché perché il buon Chesterton diceva una cosa molto semplice ma molto vera la cosa più pericolosa del mondo è che è vivo si è sempre in pericolo di vita in questi giorni ho incontrato un imprenditore che mi è piaciuto molto e lui diceva ma speriamo a un certo punto c'era una persona che gli ha chiesto ma speriamo di non dover sempre cercare di sopravvivere e lui gli ha detto ma perché perché la condizione della vita è sopravvivere cioè cercare di costruire di andare sopra quello che è la tua vita normale cioè alzare l'asticella e questa opportunità è quella che è data continuamente certo è pericoloso il mondo si può sbagliare si può fallire ma non è questo il problema cioè non è questo quello che ci blocca che ci ferma guai nella vita l'uomo ha sempre vissuto per sopravvivere fin dai tempi in cui bisognava andare a caccia portarsi a casa qualcosa da mangiare e questo aspetto dentro le nostre officine è proprio quello che abbiamo cercato di costruire insieme innovare e cambiare tutti i giorni per rispondere al cambiamento della realtà del mercato cambiare però è un sacrificio e da soli non ce la si fa è l'esperienza che facciamo tutti noi quando siamo lì da soli e cerchiamo di costruire cerchiamo di provare ma da soli si fa una fatica pazzesca e si molla l'esperienza che ha fatto quasi il 90% di quelli iscritti nelle officine che di fronte anche a opportunità molti di voi me l'hanno raccontato ma c'è questa opportunità in Libia e ok allora perché non ti butti però dovrei perdere del tempo per capire se il libico è una persona seria e certo però se non capisci se il libico è una persona seria sei qui che ti lamenti del fatto che non c'è lavoro in Italia l'occasione ce l'hai il contatto ce l'hai l'opportunità ce l'hai che fai? eh ma non c'ho tempo non si piange sul latte versato cioè le occasioni sono proprio dentro una compagnia aggredibili accettabili senza una compagnia uno perde molto anche questa capacità di sopravvivere allora la sfida è proprio questa che occorre coraggio e occorre una compagnia allora la nostra idea è molto semplice è essenziale mettiamo una compagnia all'opera dentro le officine perché questi 12.000 uomini che vengono da 180 paesi del mondo possono essere quell'humus fertile che può diventare dirompente nella capacità di rilanciare rimettere insieme il nostro potenziale però per fare questo ci sono un po' di passaggi piccolo problema se io faccio ciascuno di voi queste domande voi che cosa mi rispondete? Giuliano cosa mi rispondi? chi sono un imprenditore che cerca di fare qualche cosa che rimanga? dove vado non so dove vado ma vado con le persone che sto incontrando questa è la storia di quello che sto facendo lo sai e il con chi con chi si siede a tavola con me perché io comincio a lavorare ogni progetto per me nasce intorno a un tavolo dove si mangia qualcosa e quindi con chi con chi si siede a tavola con me bene queste prime domande sono quelle fondamentali per avere una direzione allora quello che noi vogliamo fare e che vi proponiamo è ragazzi dentro questo percorso facciamolo insieme allora un percorso inizia sempre così si comincia capendo chi sono dove vado e con chi ci vado allora questo è il contenuto estremo delle officine premium noi vogliamo sederci attorno a un tavolo e insieme decidere chi sono dove vado e con chi ma non rimane lì perché questo è il primo pezzo di una strada perché la strada può portare a successo al fallimento nella vita funziona sempre così e la soluzione di conseguenza è che noi abbiamo pensato questa ipotesi punto primo profiliamo la tua unicità cioè il tuo punto di unicità la tua differenza sostanziale rispetto a tutti gli altri mettiamoci a ragionare su questo vuol dire chi sei ma soprattutto vuol dire ma tu chi potresti essere chi potresti essere partendo da quelli che sono le tue doti partendo da quella che è la tua caratteristica il tuo potenziale secondo aspetto comprendiamo insieme allora ma dentro questo dialogo non perché è l'idea balzana che mi è uscita dalla testa o magari è l'idea un po' difficile e complessa si può fare una curva anziché andare dritti da A a B comprendiamo insieme dove andare e come dove vai terza grande domanda ok allora per essere molto concreti e per non star lì a fare aria fritta noi insieme ti fissiamo tre appuntamenti ora luogo con chi cioè cerchiamo realmente dentro questo enorme bacino di network di mettere insieme gli elementi di mettere insieme i pezzi cosa che nelle officine noi oggi continuiamo a vedere chi ha voglia di prendere il suo tempo e di usarlo lo fa e lo fa bene per cui trovi il geometra di Latina che ti racconta che è andato con gli imprenditori di Frosinone in Marocco da quello che ha beccato nelle officine quell'altro che ha aperto il mercato tailandese grazie alle officine quell'altro che si è reinventato insieme a un altro soggetto che ha incontrato nelle officine e stanno facendo una cosa che non c'entrava niente come lo facevano prima però sono quelli che hanno un po' quella baldanza ingenua che si buttano in più si spaventano perché sono un po' da soli e quindi dicono ma come faccio sono un po' timido e ho lido 10.000 amici è un po' come quando tu vedi una bellissima ragazza e dici fantastico mi piace troppo però sono timido e non riesco a incontrarla però magari grazie al fatto che la tua amica è sua amica riesce ad arrivare a poter avere quel contatto che poi può aprire la strada della vita allora questa è un po' l'intuizione semplice che c'è dietro questa pensata cioè abbiamo soltanto osservato quello che accadeva quello che vedevamo succedere abbiamo visto i più svegli cosa facevano e ci siamo detti porca miseriaccia se tutti fossero svegli come questi cioè se tutti si buttassero se tutti avessero il coraggio e la compagnia di questi qua e allora abbiamo provato a pensare a come aiutare tutti a poter arrivare lì perché nessuno rimanga indietro quando Stefano quando facciamo queste cose Stefano Santoni grande professionista dell'officina diciamo che è un processo che tiene conto appunto dei vincoli che abbiamo visto prima è un mondo in movimento dobbiamo essere veloci e efficaci quindi abbiamo un po' messo a frutto quello che abbiamo imparato in questi anni nell'officina abbiamo visto un po' le dinamiche quello che proponiamo è appunto una sfruttare in qualche modo quelli che sono il buono del web strumenti automatici per avere una profilazione quindi sfruttare strumenti automatici per velocizzare un po' l'interazione e dopodiché fare una uno o più sessioni di incontro che facciano emergere proprio l'unicità la specificità dell'azienda e quindi riuscire a capire quali sono i punti che possono essere posizionati dove ci si può sviluppare in che direzione si può proporre di andare è un momento di lavoro insieme in cui cerchiamo appunto di capire come e se possiamo aiutarvi dopodiché è chiaro si arriva a un punto in cui possiamo proporvi delle possibili soluzioni di sviluppo oppure dire semplicemente non ci siamo non siamo in grado di aiutarvi fino a questo momento ovviamente senza impegno se non il tempo da parte vostra se abbiamo proprio pensato di fare un lavoro serio per cui non vi chiediamo un euro fino a quando non arriviamo ad accettare l'incarico il che vuol dire che dopo la profilazione scritta primo step accettiamo perché diciamo no questa si può fare cioè tra tutti i nostri contatti in tutti i nostri network possiamo arrivare a mettere insieme dei pezzi interessanti facciamo le nostre due ore di conversazione insieme di dialogo di incontro ci capiamo rispetto alla vostra unicità se alla fine di quelle due ore ci avete convinto allora noi vi diciamo ok ce la possiamo fare quindi accettiamo l'incarico di accompagnarvi in questa dimensione di accompagnarvi in questa avventura altrimenti vi diciamo molto concretamente guardate ragazzi non ce la facciamo non riusciamo magari ci riusciremo tra qualche mese ci riusciremo quando avremo ampliato il nostro network in maniera ancora più considerevole però massima serietà quindi se la cosa è fattibile ci assumiamo l'impegno insieme di andare avanti in 60 giorni concretizzare tre incontri tre appuntamenti se non ce la facciamo ve lo diciamo subito e quindi diciamo ragazzi abbiamo fatto un pezzo di strada insieme pazienza ci riproveremo ma sono sicuro che già questo sarà utile ci avrà chiarito le idee giustamente voi mi dite ma quanto ci costa perché ragazzi ormai tutti i banti sappiamo che le risorse sono limitate da una parte abbiamo il tempo dall'altra abbiamo i costi quanto costa fare questo viaggio insieme abbiamo pensato a questa cifra ovvero il costo di questo servizio sono queste due ore del vostro tempo che dovete mettere insieme però lealmente dentro questo dialogo fatto in skype per cui nessuno si muove dal suo ufficio ma cerchiamo di massimizzare l'efficienza del sistema e vi costa 500 euro per andare a fare questa strada insieme quindi un investimento sia in tempo che in valore quantitativo estremamente contenuto che vi può consentire a tutti perché abbiamo pensato come un aiuto a tutti di poter fare un pezzo di strada insieme quindi è un'ambizione un'ambizione un po' popolare perdonateci siamo una piccola opera sociale nel nostro tentativo l'avete visto anche voi in questi tre anni in cui abbiamo fatto tutto gratuitamente ma il nostro tentativo è la nostra ambizione di poter essere utili a tutti e quindi il tentativo ancora una volta questo i risultati che noi speriamo di ottenere a dire il vero qualche prototipo l'abbiamo fatto quindi parliamo anche a ragion veduta uno comprensione del proprio potenziale punto primo devo capire che potenziale ho quando l'ho capito poi si tratta di andare a lavorarci voi sapete che il potenziale è ben diverso dalla prestazione la prestazione è uguale al potenziale meno i meno che cosa che cosa ci frega rispetto al nostro potenziale quello porta poi il risultato secondo me questo uomo qui lo sa il germano potenziale uguale meno tempo limiti i limiti ragazzi sono la solita fregatura i limiti chi è che ce li dà noi stessi siamo noi che limitiamo radicalmente le nostre potenzialità allora il gioco è anche questo essendo che questo è il lavoro che noi facciamo continuamente come coaching di impresa come consulenza su cui da 15 anni che aiutiamo le aziende italiane ne sappiamo qualche cosa e quindi l'idea è ok almeno velocemente ma lavoriamo su questo pezzo cioè cerchiamo di capire realmente qual è il potenziale di ciascuno di noi due condivisione e correzione del proprio piano d'azione dove diavolo stai andando cosa stai combinando ragioniamoci insieme tre a questo punto sostegno a un riscontro dentro la nostra community questa community come diciamo prima è di 12.000 persone da 180 paesi del mondo ma ancora più interessante è dentro tanti network collegati tanti amici che hanno dei loro network che possono lavorare insieme su questo tentativo su questa sfida e quindi di sicuro in qualche modo il collegamento giusto per l'idea giusta possiamo essere quasi certi che potremmo trovarlo per questo ci sentiamo di farvi questa proposta non perché siamo un po' pazzi ma perché partiamo dal fatto che abbiamo dietro una rete interessante a questo punto fissare appuntamento con tre opportunità di crescita con cui poter misurare il proprio potenziale per cui il nostro obiettivo è di terminare dandovi un aiuto sulla profilazione precisa di chi siete dove andate cosa volete fare due darvi tre appuntamenti precisi giorno ora luogo questo è quello che vi proponiamo con officine premium è un tentativo perché tutti possono fare l'esperienza che ha fatto quel 5-10% di iscritti alle officine che ci ha dedicato tempo energia e poi ci viene a raccontare di tutto quello che di bello è riuscito a fare reinventandosi ripartendo andando in giro per il mondo piuttosto che semplicemente standosene nel paesello ma cambiando radicalmente il modo di fare le cose che faceva prima allora la nostra speranza è che questo possa essere di aiuto a tutti per poterci raccontare questa esperienza che 12.000 imprenditori ci raccontino questa esperienza perché vorrebbe dire aver cambiato la faccia di un pezzettino interessante di quella che è la realtà di impresa quindi su questo pezzo noi abbiamo messo questo slogan help connect our business aiutiamo a connettere il nostro business quindi non c'è più soltanto lo sforzo personale di uno che prova a connetterlo ma c'è un aiuto c'è una storia c'è una squadra dietro che prova ad essere di supporto a tutto questo cioè si prova a fare questa strada insieme in una compagnia perché abbiamo notato che dentro un social network il grande punto tragico a volte è che si rimane soli cioè che non si riesce a ingranare una relazione mentre invece riuscire ad ingranare a supportare questa relazione proprio il pezzo che vi facevo vedere prima cioè una business community nasce perché c'è una capacità di farsi compagnia c'è un livello di fiducia in cui ci si sente accompagnati in cui si prova insieme a trovare il coraggio per cambiare per fare altro e mi avvio la conclusione in maniera precisa di questo incontro dicendovi proprio questo che nel quello che ho visto io in questi anni noi siamo tutti veramente parte di uno stesso albero questo è un albero che viene su che ha radici profonde che ha tutta una grande tradizione ma mi ha stupito quando sono arrivati gli stranieri nelle officine dicevo beh questi però non sono proprio lo stesso albero però ho capito nel rapporto con loro che c'erano radici comuni di interesse comune di un desiderio di gusto di bellezza di verità comune e quindi è stato affascinante mi ricordo ancora oggi il giorno in cui nell'officina è entrato nello stesso giorno un israeliano e contemporaneamente un iraniano ed era anche un giorno particolare e questo mi ha fatto pensare come realmente le radici sono radici comune i fiori sono fiori comuni e i frutti ancora di più e quanto più noi avremo la capacità di pensare di agire considerando avvertivamente questo fattore cioè del fatto che una comunità è l'elemento trainante di espressione della nostra potenzialità della nostra personalità tanto di più non avremo paura di nulla e di nessuno allora vi dedico soltanto rubandovi qualche altro minuto per poi richiedervi di consegnarci il modulo in maniera tale che noi possiamo trarre le conseguenze rispetto alla proposta che vi abbiamo fatto e possiamo pensare se questa può essere una strada percorribile insieme o una strada da abbandonare perché poi nella vita il bello è che si va per ipotesi e tutte le ipotesi sono degne di essere almeno tentate che si va Grazie a tutti. 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 Se uno si rinchiude in se stesso penso che si vada dalla parte sbagliata. Grazie a tutti.